Insieme vinciamo, con questo slogan, il Comune di Teramo dà l'avvio allo screening di massa sul proprio territorio. Le date prescelte sono quelle che vanno da giovedì 17 dicembre a domenica 20 dicembre. Intanto sono 22 i siti prescelti dall'amministrazione comunale dove effettuare i tamponi di massa. Palazzetti e palestre scolastiche sono pronte ad accogliere i terramani che vorranno sottoporsi volontariamente e gratuitamente ai tamponi. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente quella di individuare il maggior numero di positivi asintomatici sull'intera provincia terramana e contenere il contagio. I siti individuati per Teramo sono i palazzetti dello sport di Scapriano e di San Nicolò, il Palacqua Viva Giorgio Binchi, l'attenso struttura di Villa Pavone, poi le palestre delle scuole geometri alla Cona, del Liti in via San Marino, della scuola Noel Lucidi, Molinari, dell'alberghiero di Poppa, dell'agrario Rozzi a Piano Daccio, dell'istituto Milli, in via Fedele Romani, della scuola Zippilli, della scuola Media Giovanni XXIII a San Nicolò. A disposizione dei terramani ci sono anche la facoltà di veterinari a Piano Daccio, l'università di Teramo al campus di Colleparco, così come il Parco della Scienza, l'ipogeo di Piazza Garibaldi, la caserma dei vigili del fuoco di via Diaz, la clinica mobile dei vigili urbani in piazzale San Francesco, la sala espositiva di via Nicola Palma, l'antistadio a Villa Vomano e la motorizzazione di Villa Tordigna. Intanto questa mattina a Teramo sono tornati a scuola gli studenti della seconda e terza media, complessivamente 1050 ragazzi che hanno ripreso le lezioni in presenza.